Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Latri in azione rubano persino le offerte per i terremotati Vandali per noi a San Costanzo se la prendono con l'albero di Natale La bandiera verde dell'ambiente ha due scuole fanesi 300 bambini in giro per la città per appellire il centro Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti, cominciamo dalla cronaca Ladri in azione anche questa no, la scorsa notte a Fano in particolare in un ristorante dove una volta entrati hanno persino preso le offerte per le popolazioni terremotate Ladri poco solidali, quelli entrati nella scorsa notte nel locale Isla Bonita di Viale Ruggeri a Fano Oltre al fondo cassa di appena un centinaio di euro si sono portati via anche il contenitore con le offerte pro terremotati Nota e tempo i gnoti si sono introdotti nel locale entrando da un ingresso sul retro del locale rompendo presumibilmente viste le tracce lasciate sul posto con un grosso sasso una vetrata anti sfondamento ed agendo poi sul maniglione antipanico una volta all'interno del locale sono andati dritti al cassetto della cassa e rovistato in lungo e in largo portando via dal frigo e dal bancone anche diverse bottiglie di birra e liquori e lasciando evidenti tracce sia del loro passaggio che della loro via di fuga con un'evidente manata sulla vetrata d'ingresso oggetto ora di attento esame da parte dei carabinieri di Fano che stanno indagando sull'effrazione Già la seconda volta almeno la prima volta hanno provato ad entrare questa volta invece ci sono riusciti e hanno fatto danno Al di là del danno e dell'importo economico che comunque è sempre rilevante rimane un po' l'amarezza per questi episodi Assolutamente sì anche perché non sai più che cosa pensare mi chiedevano il fatto che fossi magari arrabbiata che mi avevano aperto un locale di fianco ho detto no, anzi meglio perché qui in questa zona della Sassodia 3 veramente siamo un pochino abbandonati è una zona abbastanza decentrata abbastanza probabilmente a rischio di queste cose quindi con il locale di fianco c'è un pochino più di movimento e sono ben felice di questa cosa Invece i vandali probabilmente ragazzini un po' annoiati il sabato sera se la sono presa con un albero di Natale l'albero di Natale in piazza a San Costanzo Siamo proprio qui di fronte all'albero oggetto della Mara Scoperta che è stata fatta domenica mattina infatti se sabato sera siamo andati appunto a dormire in pieno spirito natalizio con le luci e gli addobbi perfettamente integri e con tutto il paese illuminato a festa domenica mattina ci siamo ritrovati invece uno spettacolo a dir poco indecoroso uno spettacolo che ahimè in cui gli attori protagonisti sono stati dei vandali che io definisco dei perfetti idioti i quali non soltanto hanno provocato dei danni di natura materiale all'albero che consistono nell'aver rotto e non sono più recuperabili le naturalmente luminarie dell'albero le decorazioni il basamento intorno i paletti che fungevano da cornice all'albero stesso ma soprattutto e questo credo che sia il danno materiale di maggiore entità hanno colpito un simbolo del paese un simbolo di unità un simbolo di comunità e soprattutto anche un simbolo naturalmente dell'atmosfera natalizia ora questo ha provocato addirittura anche un cortocircuito dell'illuminazione che corre lungo le mura a Castellane di San Costanzo quindi anche dei danni tutto sommato di non poco conto ma quello che voglio sottolineare è che questo è un albero che ha realmente significato di comunità perché nasce da un progetto di collaborazione con la Proloco che lo dona alla comunità con il comune che lo illumina e lo installa e con i bambini delle scuole che nell'ambito di un progetto molto interessante che è Vivere il Paese lo vanno ad addobbare tra l'altro lo addobbano a tema rispetto a quelli che sono i mercatini natalizi di San Costanzo che si svolgono il 17 e il 18 dicembre che sono i mercatini del Baratto e del Km Zero quindi anche naturalmente gli addobbi sono fatti appunto con materiale riciclato in questo caso con dei bicchieri in plastica ecco l'albero avete già visto appunto le immagini credo le fotografie che sono state fatte nell'imminenza dei fatti è stato irrimediabilmente distrutto ora noi andremo a visionare i filmati delle telecamere che ci sono appunto nella piazza e speriamo che effettivamente da lì si possa riscontrare qualcosa anche se va detto che chiaramente le telecamere sono installate con delle finalità specifiche che sono quelle della ZTL piuttosto che della sorveglianza degli immobili comunali e quindi non sappiamo se effettivamente poi avranno oggettivamente registrato anche le immagini dei trasgressori e quindi dell'atto vandalico che è stato commesso detto questo resta una denuncia contro i gnoti ma soprattutto resta una profondissima amarezza che addirittura è accresciuta anche dal fatto che proprio nella nostra regione nella regione Marche mentre a sud si piange non soltanto per i morti ma anche per l'identità ferita di paesi dimostrando un attaccamento ed un amore per i paesi più a nord in questo caso a San Costanzo si compiono degli atti vandalici che dimostrano al contrario una mancanza di attaccamento ed una mancanza di amore per il proprio paese quindi da qui il nostro sdegno e da qui il nostro grido vergognatevi nei confronti dei trasgressori nei confronti dei vandali che hanno compiuto questo fatto Rapina e lesioni personali sono stati sono questi i reati per i quali è stato arrestato in flagranza di reato un 37enne residente a Montemarciano in provincia di Ancona l'uomo è finito in manette la notte scorsa dopo aver investito con un SUV un operaio 26enne di Senigallia che tornava a casa in bicicletta dopo aver travolto il giovane l'uomo di cui si cerca adesso il complice lo ha rapinato del telefono cellulare acquistato il giorno precedente e sono in corso adesso ulteriori indagini da parte dei carabinieri di Senigallia per far luce sulla vicenda chiudiamo adesso la pagina di cronaca apriamo quella della sanità perché oggi pomeriggio il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli ha incontrato il consigliere regionale Gino Traversini e i consiglieri del comune di Fossombrone Michele Chiarabilli ed Elisa Cipriani per discutere del futuro dell'ospedale durante l'incontro richiesto dal gruppo consigliare Unione per Fossombrone il presidente ha garantito che anche l'ospedale di comunità forsempronese resterà aperto 24 ore su 24 e verrà assicurata la presenza del medico internista come nel punto di primo intervento fino al mese di marzo e quella anche del medico di continuità assistenziale proprio come le strutture di Caglie e Sasso Corvaro il presidente Ceriscioli inoltre si è impegnato a finanziare per il prossimo anno circa 1 milione e 700 mila euro per la ristrutturazione di un padiglione attualmente inutilizzato per ospitare i 20 posti letto ulteriori previsti in convenzione con Marche Nord non solo bandiere blu non solo bandiere arancioni ma ci sono anche le bandiere verdi che come facilmente intuibile vengono assegnate per chi rispetta e chi ama particolarmente l'ambiente a Fano ne sono state assegnate due ecco school ecco school è uno dei programmi internazionali della foundation for environmental educational per l'educazione e la gestione e la certificazione ambientale con più di 14 milioni di studenti e oltre 40 mila scuole iscritte è il programma di educazione alla sostenibilità più realizzato al mondo l'approccio del programma e la combinazione di teoria e azione rendono ecco school uno strumento ideale per la diminuzione dell'impanto ambientale delle comunità scolastiche per la diffusione anche delle buone pratiche ambientali non solo tra i giovani ma anche nelle famiglie e nelle autorità locali al progetto promosso dal laboratorio Fano la città dei bambini e delle bambine e del comune hanno aderito la direzione didattica Fano San Lazzaro e l'istituto comprensivo Padalino anche per l'anno scolastico 2015-2016 ed ottenuto il riconoscimento della bandiera verde anche per questa annualità il mondo della scuola il mondo dei più giovani nella nostra città è particolarmente attento alle tematiche dell'ambiente della salvaguarda dell'ambiente della nostra città e soprattutto c'è un'attenzione del mondo della scuola degli insegnanti dei dirigenti scolastici a investire nella formazione e nell'educazione e il riconoscimento prestigioso della bandiera verde che oggi viene segnato da alcune scuole fanesi è la dimostrazione che in qualche modo sono ancora i più giovani a dare un po' il senso e l'orizzonte sul quale dovremo muoverci nei prossimi anni Eco School è un programma internazionale che promuove soprattutto in questo caso le scuole e in questo caso sempre di Fano che sta dando una dimostrazione di essere una delle città più all'avanguardia su quello che riguarda la sostenibilità ambientale il rispetto per l'ambiente inteso non soltanto come ambiente vegetale ma anche come ambiente perdonatemi ambiente antropico cioè il rapporto tra di noi quando si dice che ambiente è è un bell'ambiente non significa che è una bella foresta significa che è un bell'ambiente cioè ci troviamo bene i rapporti sono leali le interrelazioni sono corrette e quindi questo è quello che assieme al comune di Fano noi facciamo perché le scuole possano crescere anche educate la mattinata di oggi per il corpo docente e gli alunni della Padalino però aveva anche una doppia valenza legata questa volta al suo intestatario il 12 dicembre ricordiamo il medico di Fano Giovanni Padalino al quale appunto è stata intitolata la nostra scuola quest'anno per la nona volta di seguito ci viene riconosciuto questa bandiera verde ci viene consegnata questa bandiera verde per riconoscere un'attenzione ai temi dell'ambiente e dell'attenzione alla natura e alla cittadinanza attiva quindi è un duplice appuntamento e quindi ci impegna molto in questa giornata questa mattina in prefettura a Pesaro si è discusso del problema degli ungulate dei lupi presenti oltre al prefetto Luigi Pizzi anche il sindaco di Urbino e i presidenti delle unioni montane dell'alta valle del Metauro e del Monte Feltro riguardo la presenza di cinghiali si è deciso di intensificare ulteriormente l'attività di abbattimento selettivo da parte della provincia mentre per quanto riguarda i lupi che spesso uccidono animali e danneggiano ovili e quant'altro essendo una specie particolarmente protetta non è ipotizzabile l'abbattimento è auspicabile invece l'adozione di efficaci misure di difesa passiva quali ad esempio le recinzioni elettrificate per proteggere animali e colture i siti turistici di Fano si aggiornano e si adeguano con nuove tecnologie come è accaduto nella chiesa di San Pietro in Valle che accoglierà i visitatori con un sistema di ultimissima generazione di audioguide un tempo erano le guide cartacee oggi sono le nuove tecnologie digitali a supportare il turista viaggiatore nei suoi pellegrinaggi le nuove tecnologie vengono spesso incontro ad esigenze di diversi settori della nostra società ma ce n'è uno che sicuramente ne ha ricevuto in termini di divulgazione e conoscenza i maggiori benefici ed è quello turistico museale quasi ad ognuno di noi sarà capitato sia in Italia che all'estero di entrare in un museo o in un sito storico culturale e grazie all'ausilio di audioguide o recentemente dei QR code di acquisire nozioni o di entrare addirittura dentro l'opera d'arte e comprenderne a pieno la sua importanza e tutte le nozioni disponibili nella splendida chiesa di San Pietro in valle a Fano nuove tecnologie a disposizione tablet con un programma precaricato che guida passo per passo opera dopo opera il visitatore e ne svela tutti gli aspetti storico artistici di questo capolavoro del barocco fanese abbiamo ritenuto opportuno di attivare una lettura con realtà aumentata e con ricostruzioni per la verità devo dire molto efficaci per cui un visitatore col suo smartphone o con un tablet che viene dato in dotazione potrà seguire un racconto di circa 20 minuti su tutti i dettagli della chiesa in doppia lingua e vedere ricostruite le cappelle con il fotomontaggio dei dipinti che sono albergati in piena coteca la storia della chiesa di San Pietro in valle ha inizio in tempi remoti quando il cristianesimo si diffuse nella pagana fanum fortune e lentamente ne trasformò la fisionomia ci sarà un QR code quindi col cellulare smartphone tutti lo sanno utilizzare più o meno si fa una fotografia e verrà fuori anche sul proprio personale telefonino tutto il racconto oppure dentro con le nostre maschere ci sarà chi assiste un turista consegnerà dei tablet e sul tablet con uno schermo un po' più grande si potrà fare questo viaggio virtuale che ognuno potrà dimensionare nell'arco dei 20 minuti o tutti o 10 spostandosi di persona di fronte a ogni singola cappella guardando la volta cercando di vedere i riparamenti esterni perché questo è un racconto che analizza dall'esterno all'interno tutta la chiesa ed entrando ho percepito con sorpresa un tripudio di ori stucchi e marmi policromi che non mi aspettavo il centro storico il centro storico di Fanno preso d'assalto letteralmente da 300 bambini festanti che hanno animato tutte le vie del centro vediamo domenica pomeriggio Fanno centro storico sono le 16 e sotto l'albero in piazza si stanno radunando più di 300 bambini di 14 scuole primarie cittadine presto questo gioioso e coloratissimo assembramento si spanderà per il corso e tutte le strade ed invaderà pacificamente naturalmente con cori itineranti e quadri coloratissimi i negozi della città obiettivo abbellire le vetrine con le loro opere create per l'iniziativa nati per essere felici la manifestazione arriva a conclusione di un percorso di cittadinanza che vede i bambini protagonisti attivi nella loro città parlando delle caratteristiche del nostro Natale non può mancare la fanno città dei bambini e così insieme all'assessore mascarin dei servizi educativi al cremi laboratorio città dei bambini abbiamo pensato di dedicare questa giornata dove i bambini hanno lavorato in classe hanno creato queste bellissime loro opere che consegneranno a tutti i commercianti della città quindi una bella collaborazione ma questo deve essere varie caratteristiche che si sposano e fanno qualcosa per la città l'arte e la musica sono linguaggi universali e interculturali ed i bambini ne sono i migliori interpreti durante i laboratori infatti tutti gli studenti indipendentemente dalla conoscenza della lingua e dalle differenze culturali hanno avuto la possibilità di esprimersi e comunicare con il fare ok siamo arrivati alla pagina sportiva del lunedì in studio c'è Matteo Del Vecchio grazie Marco buonasera a te e ai telespettatori di Fano TV come sempre è il campionato di Lega Pro ad aprire la pagina sportiva con l'Alma Juventus Fano che dopo la sconfitta di ieri si trova ad affrontare forse il periodo peggiore dall'avvio di stagione la scorsa settimana avevamo detto che la partita con il Modena di mercoledì e quella di ieri con il Lumezzane avrebbero potuto dare una svolta alla stagione le due sfide invece hanno messo in luce tutti i limiti del Fano che con il solo punto conquistato in Emilia sui sei disponibili sprofonda al terzultimo posto in classifica quello di ieri al Mancini contro i Lombardi era un match assolutamente da vincere ed invece gli uomini di Cusatis sono apparsi morbidi dietro e poco incisivi davanti facendo esultare gli ospiti che con un gol per tempo espugnano Fano e si allontanano dalla zona calda di Terracino al 33esimo e speziale all'81esimo i gol partita in mezzo qualche sprazzo di buon calcio da parte dei Granata ma non quanto basta per impensierire la squadra di mister De Paola il colpo di testa di Gucci nei primi minuti e le successive occasioni di Gabbianelli e Zullo non evitano ai padroni di casa la quarta sconfitta nelle ultime 5 gare la decima in stagione e complicano ulteriormente la già deficitaria classifica a fine gara in sala stampa il tecnico Cusatis fa mia culpa assumendosi tutte le responsabilità per questo periodo di stagione una stagione che domenica prossima arriva al giro di Boa con una sfida ai limiti del proibitivo per il Fano impegnata sul campo del Bassano squadra che seppur in un periodo di forma poco positivo veleggia nei piani alti della classifica una classifica dove in vetta c'è il Pordenone con 37 punti seguito da Venezia a 35 e Reggiana a 33 e come ormai abitudine dal calcio passiamo al calcio a 5 e nello specifico al campionato nazionale di serie B dove l'età beta sembra averci preso gusto e sabato ha centrato la terza vittoria consecutiva dopo un avvio di stagione negativo infatti i ragazzi di mister Davide Barniesi sembrano aver trovato la retta via e nell'ultimo turno sono andati ad espugnare per 3 a 1 il campo del Corinaldo di Etai Galvao e Frattoni le reti che consentono ai Granata di salire a quota 10 in classifica agguantare lo stesso Corinaldo e avvicinarsi all'altra fanese del girone l'Alma Juventus che al circolo tennis fano è stata superata per 6 a 2 dal Cus Ancona una sconfitta che fa scivolare i ragazzi di Francesco Ferri ai margini della zona play out a quota 13 punti una zona dal quale prova ad uscire il buldo Glucrezia del tecnico fanese Elia Renzoni che dopo un periodo di sole sconfitte nell'ultima giornata ha superato in casa per 2 a 1 il città di Montesilvano salendo così a 12 punti chi invece ha una classifica di tutto rispetto è il Flaminia nel campionato nazionale di Serie A femminile le ragazze di Alessandra Imbriani infatti superando nello scontro diretto il Rambla Padova si riportano al comando del girone dopo che in settimana lo avevano perso proprio per mano delle patavine abili a superare il Trento nella sfida di recupero di Linda Letizzi Claudia Giovannelli e Capitan Sara Berti le reti che fanno volare le bianco-azzurre in cima alla classifica e chi invece il primato lo ha perso è il fano rugby che nel campionato di C1 ieri ha subito la seconda sconfitta consecutiva 29 a 15 il risultato con cui Macerata espugna il Falcone Borsellino facendo scendere dal trono i ragazzi di Franco Tonelli ora secondi a meno 2 dal San Benedetto e a più 4 dallo stesso Macerata di Matteo Fulviugolini e Mattia Scanapini le meti per i padroni di casa che ora sono chiamati ad una pronta reazione già da domenica prossima quando nell'impianto di Via Tomassoni arriverà proprio la neocapolista San Benedetto e il weekend poco positivo del rugby va a braccetto con quello del volley con le squadre locali entrambe sonoramente sconfitte nei campionati di Serie C in campo maschile la Virtus Fano priva dei titolari Andruccioli Procida e Tallone non può nulla contro la corazzata a Gugliano a cui concede il fianco per 3 a 0 ed è di 3 a 0 anche il risultato con cui l'Apav Calcinelli Lucrezia perde il derby casalingo contro l'Urbania Rosso nel torneo femminile una sconfitta l'ennesima di stagione maturata dopo una sfida condotta a senso unico dalle ospiti e la rubrica sportiva di questo lunedì si chiude parlando dei campionati italiani di pugilato che si sono svolti lo scorso weekend a Bergamo alla competizione hanno preso parte anche due atleti della società Audax Box Club Metauro di Fano Alessandro Gramolini nella categoria 57 kg ed Erika Montalbin nella 64 kg femminile più che positivo il bilancio per i due specialmente per la Montalbini che porta a casa una medaglia di bronzo vissando così il risultato ottenuto nel 2015 a Roseto degli Abruzzi battuto invece ai quarti Gramolini cui resta comunque la soddisfazione di essere stato il primo fanese a raggiungere le fasi finali degli assoluti e con il pugilato si chiude la pagina sportiva di questa sera ve lo ricordo anche se ormai lo conoscete bene l'indirizzo al quale inviare le vostre segnalazioni che è sport-fanotv.it per questa sera è tutto l'appuntamento con lo sport di Fano ed Intorni è a lunedì prossimo buona serata ed è tutto anche per me grazie per averci seguito arrivederci a domani grazie per avermi